Siamo qui a Barcellona, sono Lorenzo da Amalfa Romero. Io ho iniziato in un primo momento come un clubber. E poi ho iniziato a pensare a poco a poco che mi gustava che sia il DJ. A fare ballare tutta la gente con la sua propria musica, con il suo stile. E questo mi accanto. E dopo molti anni che stavo lavorando, come un hobby o più serio, ho ho trovato a lui, a Marcio. E lui ha parlato conmi di questo progetto che si chiamava Amalfa Romero. E mi accanto essere parte di questo progetto. È molto importante la rete sociale, stare sempre online, stare sempre ponendo cose della tua vita professionale. Però la cosa più importante deve essere la musica, sempre. Il Synthetize che amo di più in assoluto è l'Oberheim. È un synth molto personale, anche se in studio lo usiamo poco. Perché in studio ora usiamo molto più Moog, Eurorack, quindi modulari, Roland, il Prophet 600. Però il mio preferito in assoluto è l'Oberheim. È un synth che ha un suono, una pasta che per me non ha uguali. Sono synth difficili da trovare, molto costosi e soprattutto delicati. Si rompono molto facilmente. In studio ne abbiamo due e infatti uno è rotto. E quindi niente, questa è la mia risposta. Grazie a tutti.